Ok ragazzi, siete l'influencer più bella, famosa e ricca d'Italia, con 29 milioni di follower. Insieme alla Balocco avete provato a piazzare oltre 300.000 Pandori personalizzati al triplo del prezzo medio. E oltretutto, nella comunicazione promettevate di aiutare un ospedale ad acquistare macchinari, ma alla fine della fiera non avete versato un centesimo. L'autorità per la concorrenza e il mercato vi ha sgamati e condannati a pagare circa un milione di euro. Quindi, se per scusarvi con i vostri fan e l'opinione pubblica tutta copiate la comunicazione e lo stile dell'onorevole Sumauru, che cosa potrà mai andare storto? Ciao a tutti. Giova, scusa, ma questa che ci sta salutando, chi è? Mi perdoni, signorina esponente della classe operaia, vilmente vestita e dedita al rassettamento della casa. Potrebbe gentilmente indicarmi dove posso trovare la commendatrice Ferrani. Ah, siete voi! Scusatemi, vi siete struccata benissimo da operaia dedita alle faccende di casa. Date una festa in maschera. Sono sempre stata convinta che chi è più fortunato ha la responsabilità morale di fare del bene. Sì, è un concetto molto americano ed è anche un ottimo modo per migliorare la propria immagine. Quando sei particolarmente ricco e particolarmente famoso, la gente comune, soprattutto in Italia, non ti vede di buonissimo occhio. Si domanda continuamente, ehi, ma perché tu, proprio tu, sei ricco e sei famoso? E la risposta, che normalmente consiste in, mi sono fatto un mazzo tanto e ho avuto quintalate di fortuna, normalmente non piace. Quindi, per rendere più dirigeribile il tuo opulentissimo stile di vita, fatto di jet privati e di incarichi singoli che ti rendono più di quanto guadagnano i 250 dipendenti di balocca in un anno, cosa fai? Fai beneficenza. È una strategia utilizzata dagli uomini, ma anche dalle donne, più ricche e potenti da sempre, fin dall'antichità. Ma in tempi più recenti, la nuova dottrina della beneficenza pubblicizzata è stata, per così dire, ideata e soprattutto realizzata dalla famiglia Rockefeller nel 1901. Lui, esattamente come Fedez, ha creato una fondazione e, a differenza di Fedez, che ad oggi ci ha pompato dentro 300.000 euro, Rockefeller donò letteralmente miliardi di dollari alla sua creatura per fare del bene opere filantropiche adeguatamente pubblicizzate. In questo modo, convinse l'opinione pubblica ad aumentare le tasse sul suo patrimonio. E questa strategia venne naturalmente poi seguita e imitata da praticamente tutti gli altri miliardari americani, i cui massimi esempi sono Ford e Bill Gates. Questi sono i valori che hanno sempre spinto me e la mia famiglia. E questo è quello che insegniamo ai nostri figli. E questa, naturalmente, è una cosa buona e giusta. Il fatto che si tratti di una situazione win-win e che, cioè, tu da ricche miliardaria migliori e rafforzi la tua immagine, che, peraltro, è utile per guadagnare altri miliardi, non interferisce sul fatto che fai anche delle cose buone e giuste. Gli insegniamo anche che si può sbagliare. Giusto anche questo. E che, quando capita, bisogna ammettere e, se possibile, rimediare all'errore fatto e farne tesoro. In effetti, bisogna dare atto del fatto che Chiara Ferragni sta riconoscendo, entro certi limiti, come vedremo poi, l'errore. Mentre, viceversa, Sumaoru non ha mai chiesto scusa a nessuno. E questo è quello che voglio fare ora. E se fosse davvero così, la cosa farebbe davvero onore a Chiara Ferragni. Ma, come ripeto, al suo operato ci sono dei precisi limiti. Devolverò un milione di euro a Regina Margherita per sostenere le cuore dei bambini. Il che è, naturalmente, una bellissima notizia. Ma devo rilevare che, purtroppo, non stai facendo una cosa così straordinaria. Stai, semplicemente, facendo seguito a quello che hai implicitamente promesso quando una delle tue società ha fatto scrivere su 300.000 Pandori che avresti fatto beneficenza a favore del Regina Margherita. Ma non basta. Lo voglio fare pubblicamente perché mi sono resa conto di aver commesso un errore di comunicazione. Ora, un milione di euro dati in beneficenza sono sempre un milione di euro. Una gran bella cifra, quantomeno per i nostri poveri e plebei portafogli. Ma questo non è un errore di comunicazione. È un inadempimento nei confronti del tuo pubblico. Su 300.000 bigliettini di Pandoro, e anche su alcune comunicazioni che mi risultano siano state cancellate dai social, ti eri impegnata a fare beneficenza. Si parlava direttamente di Balocco e Chiara Ferragni sostengono l'ospedale Regina Margherita di Torino. Quando in realtà la Balocco ha sì sostenuto l'ospedale. Ma Chiara Ferragni assolutamente no. Questo non è un errore di comunicazione perché dalle mail si vede perfettamente che Chiara Ferragni non stava pensando ad alcun progetto di beneficenza. Perché naturalmente, o perlomeno a quello che risulta, dal maggio 2022 al dicembre 2023, e cioè nell'arco di un anno e mezzo abbondante, nessuno, né Chiara Ferragni, né sua moglie, né tantomeno il suo staff, hanno provveduto a prendere in mano il telefono e dire caro ospedale Regina Margherita, che cosa vi serve? Un errore di comunicazione è una cosa diversa, è una cosa del tipo ti faccio arrivare un veicolo, io mi aspetto un'auto e tu mi porti una moto. Questo è un errore di comunicazione. Ma promettere una cosa e non farla è un inadempimento. Un errore di cui farò tesoro in futuro. E questa naturalmente è una cosa buona. In realtà le attività di beneficenza sono sempre state separate dalle attività commerciali. Chiara Ferragni, per quanto ne so, non ha una sua fondazione o associazione che si occupa solo ed esclusivamente come mission di fare beneficenza. Poi, naturalmente, non sono un esperto di Ferragnese, ma non mi risulta che abbia mai promesso di dare una percentuale dei compensi pagati, che so, dall'acqua Avian in beneficenza. Mi pare che questa esperienza con Balocco fosse una delle prime. Poi, non voglio essere cattivo, ma parlando da manager, ritengo che separare assolutamente le due sfere possa essere utile soprattutto in questo periodo per Chiara Ferragni. Mi spiego meglio. Sappiamo che a Chiara Ferragni è arrivata una mezza mazzatina sulla testa con quella sanzione da un milione di euro. In realtà le sue società fatturano abbastanza da assorbire il colpo senza farsi troppi problemi. È l'equivalente di un brutto livido, per intenderci, se fosse uno scontro di altro tipo. Ma separare le due cose può essere utile, perché nel caso in cui, come tutti gli imprenditori, Chiara Ferragni abbia deciso di dedicare un certo budget alle opere di beneficenza, possiamo tranquillamente ritenere che per l'anno prossimo Chiara Ferragni utilizzerà quel budget che era disponibile per pagare la contravvenzione da una parte e fare beneficenza. Ha detto che darà un milione all'ospedale Regina Margherita e per l'anno 2024 è a posto. La beneficenza che non ha fatto per quell'ospedale nel 22 la farà con gli interessi nel 24 invece di finanziare altri progetti. Ci sta, è comunque beneficenza, però è anche un modo elegante per dire che farà quadrare i suoi conti. Perché anche se il fine ultimo è buono, se non c'è stato un controllo sufficiente sulla comunicazione, si possono generare degli equivoci. Ancora con questo errore sulla comunicazione. Senza offesa, ma quando mi troverò a difendere un truffatore, il che avverrà abbastanza presto, perché ho un discreto carico di lavoro, sfrutterò anch'io la stessa strategia comunicativa. Signor giudice, guardi, tizio, non ha truffato nessuno, ha semplicemente compiuto un errore di comunicazione. Vogliamo condannarlo per questo. Poi, al termine della videoreazione, ci prendiamo anche un attimino per commentare questi sospiri e queste più o meno latime, che ha tutto il diritto, Chiara Ferragni, di esternare, ma non per i motivi che credete voi e forse che crede anche lei. Come ho già detto nei giorni scorsi, impugnerò il provvedimento della GCM perché lo ritengo sproporzionato e ingiusto. E questo, naturalmente, è un suo diritto. Personalmente la ritengo una possibilità piuttosto remota, ma non è da escludere che riesca a tirare fuori un coniglio rosa con una coda marchiata a Ferragni dal cilindro. Il mio errore, in buona fede, è stato legare con la comunicazione un'attività commerciale a una di solidarietà. No, il tuo errore o della tua società o di qualche tuo collaboratore è stato quello di promettere una donazione che poi non c'è stata, perché l'ospedale Regina di Torino tu non l'hai mai sostenuto dal maggio 2022 al dicembre 2023, cosa che invece avevi promesso di fare. Purtroppo si può sbagliare, mi spiace averlo fatto e mi rendo conto che avrei potuto vigilare meglio. E questo è innegabile, è possibilissimo che questa donazione ti sia sfuggita. Personalmente avrei preferito sentirti dire guardate ragazzi, volevo fare la donazione, avrei dovuto farla, ma mi è sfuggita, ci siamo dimenticati. Ma se la sanzione dovesse essere, come io spero, o inferiore a quella decisa dalla GCM, la differenza verrà aggiunta al milione di euro. Ok, il tuo budget per l'operazione, ripuliamoci la faccia facendo carità, è di circa 2 milioni di euro. Nei prossimi giorni parlerò con il Regina Margherita per capire come l'ospedale utilizzerà la somma da medonata. E questa purtroppo è una tipica allocazione di denaro effettuata in modo ipocrita per agganciare principalmente il pubblico a casa. Intendo dire, è lodevole il fatto che tu abbia deciso di donare comunque un milione di euro in beneficenza minimo. Ma che cosa ti fa pensare che la miglior allocazione di quel milione di euro sia a Regina Margherita? Intendo dire, Balocco ha donato 50.000 euro per acquistare un macchinario. Balocco sapeva che avendo acquistato quel macchinario avrebbe permesso di fare a Regina Margherita determinate cose che prima non poteva fare, della ricerca nel caso specifico. Ma tu, con quali parametri hai deciso che Regina Margherita ha bisogno di un milione di euro per progetti che magari non sono ancora partiti o per altri macchinari. Non hai pensato magari di fare un sondaggio fra vari ospedali per vedere quali sono le apparecchiature più necessarie e utili in determinate zone? Farebbe certamente meno clamore, ma magari puoi donare 100.000 euro a un ospedale che ha bisogno di una determinata apparecchiatura, 200.000 un altro, 500.000 un altro ancora e via discorrendo, senza trascurare Regina Margherita naturalmente. Però, insomma, il fatto che tu dici do un milione di euro a questo ospedale suona tanto come operazione di marketing, di charity washing o come si chiama nel manuale dei marchettari. E vi racconterò periodicamente gli aggiornamenti. Ottima idea! Così farai altro content e lascerai un ricordo positivo di questa brutta vicenda cancellando tutti gli aspetti negativi. D'altronde, sei un esperto in comunicazione e stai facendo la cosa più giusta anche per te, come logico che sia. Inoltre, anticipando la cosa, nessuno ti potrà muovere contestazioni in questo senso. Poi, io personalmente scherzo per vari motivi sul fatto che Fedez è la moglie nel matrimonio ma è anche, tra le altre cose, oltre che una provocazione verso il politicamente corretto, è anche un modo per evidenziare quanto Chiara Ferragni sia effettivamente un grande imprenditore e una grande comunicatrice. Il mio errore rimane, ma voglio far sì che da questo errore si generi qualcosa di costruttivo e di positivo. Sotto il profilo della comunicazione, anche questa, il riconoscimento di responsabilità, nonostante tutto, è più che corretto e non può che aiutare a rafforzare la sua immagine o quantomeno a limitare il danno di immagine. Ripeto, sotto il profilo comunicativo, a parte l'aspetto dimesso e diverso dal solito, Chiara Ferragni ha fatto tutto quello che poteva per limitare i danni. Poi, io, cinicamente, sono convinto che Chiara Ferragni, essendo un'imprenditrice, avesse già stanziato una somma da dare in beneficenza e che questa somma la devolverà a Regina Margherita invece che in altri progetti, ma quello, ripeto, è una convinzione mia. Così come una convinzione mia che Chiara Ferragni non dovrebbe piangere davanti alla telecamera per il timore di perdere i suoi follower o per l'orgoglio ferito. No, dovrebbe piangere perché corre il rischio di perdere i clienti più qualificati, e cioè gli sponsor. Pensateci, il danno di immagine lo gestisci. La Ferragni è già rimasta coinvolta in due o tre incidenti più o meno di questo livello. Una volta quando ha fatto festa con gli amici, distruggendo, fra virgolette, un supermercato e sprecando quintalate di cibo. Un'altra volta quando Fedez era stato indagato. Una terza volta per un'altra operazione di beneficenza non completamente trasparente, ora questa. Ferragni è sempre sopravvissuta e continuerà a sopravvivere alla grande. Il problema serio invece c'è con i suoi clienti, quelli veri, gli sponsor, come ripeto. Perché gli sponsor non è che pagano con qualche centesimo ogni migliaio di visualizzazioni. Ti portano letteralmente milioni e milioni di euro. Se non erro un'impresa della Ferragni a fine anno ti fattura più di 10 milioni di euro. Quando questi sponsor, che stanno per mettere la mano al portafoglio, si rendono conto che la Balocco ha venduto pochi panettoni e ha chiuso l'operazione in perdita, si è avanzata di pagare anche il suo cachet, inizia a porti qualche domanda. L'occhio ogni veggente ferragnesco vale il prezzo? Poi naturalmente ci sono anche le clausole contrattuali. Un imprenditore serio potrebbe anche domandarsi. Non sono sicuro che l'operazione vada a buon fine. Lo studio di mercato su quel tipo di operazione ricade su di me, come su di me ricade l'onere di pagare la sua consulenza e la sua opera anche nel caso in cui l'operazione vada in perdita. Mi sto mettendo nelle mani del suo team, perché contrattualmente la Balocco non aveva l'ultima parola sulla pubblicità, sulla comunicazione, ma l'aveva la società della Ferragni, e il suo team ha fatto beccare una sanzione da 400 mila euro alla Balocco, perché si è incaponita per fare pubblicità alla Ferragni, neanche alla Balocco. Perché, ripeto, se fosse stato scritto che Balocco fa beneficenza, ancora ancora il messaggio ci poteva stare, perché è vero che Balocco fa beneficenza. Il team della Ferragni ha però voluto inserire a viva forza Balocco e Ferragni fanno beneficenza, in metà di questa affermazione, quella relativa alla Ferragni, abbiamo visto che non era vera, e oltretutto ha agito in maniera non trasparente, trascurando o addirittura convincendo il team Balocco a fare qualcosa che originariamente non voleva fare. Quindi, se io fossi un potenziale sponsor della Ferragni, ci penserei sopra due volte prima di darle centinaia di migliaia di euro, o addirittura milionate di euro. E questo è il vero rischio per la Ferragni. E voi che cosa ne pensate? Come sempre, fatemelo sapere lasciando scritto qualcosa qui sotto. Se poi vi piacciono i miei video, ricordatevi di iscrivervi al canale, attivare la campanella, condividerli con gli amici che possono essere interessati e lasciare un grande e grosso mi piace. Contrariamente alla Ferragni, i miei contenuti raramente sono commerciali e quindi il vostro sostegno è sempre ben accetto. Come sempre, grazie di tutto per tutto e a presto!